L'Istat, la crescita, è lieve ma c'è. Gli ultimi dati sul prodotto interno lordo mostrano una Calabria in timida ripresa nonostante la flessione degli occupati. Il divario con le regioni del nord rimane comunque enorme. Lavoro, una regione al collasso, a crotoni dipendenti della provincia non percepiscono lo stipendio da tre mesi. A Vibo il ritardo giunge a cinque mesi e la rabbia esplode. A Castrovillari sciopero degli operai i talcementi. Luce anche sui fatti di sangue, nuovo colpo dei carabinieri della procuranti mafia di Reggio al clan Piromalli. Quattro fermati, tra le contestazioni anche due omicidi consumati dieci anni fa nella piana di Gioia Tauro. La fame alimenta il terrorismo. Wanda Shiva, la grande attivista per l'ambiente e contro la fame nel mondo, fa tappa alla cittadella. Il saluto di Oliverio e il suo messaggio. Troppi conflitti nascono dall'assenza di cibo. Una legge per il Tropea Festival, la proposta del consigliere regionale Giuseppe Mangialavori, che mira ad istituzionalizzare un evento che ha trasformato Vibo Valencia in una piccola capitale della cultura. Buon pomeriggio. L'economia è in apertura del nostro telegiornale con gli ultimi dati Istat inerenti al prodotto interno lordo e l'occupazione. Seppure lievemente, malgrado un calo degli occupati, la Calabria è in crescita. Il divario rispetto alle regioni del nord resta comunque elevatissimo. Ecco il quadro realizzato dalla nostra corrispondente da Roma, Michele Amancini. La Calabria continua ad essere ultima nelle classifiche economiche nazionali, ma a dati Istat alla mano, finalmente una buona notizia c'è. Il prodotto interno lordo della nostra regione sta ricominciando a crescere di poco, ma è pur sempre un dato positivo. Secondo l'Istat, che ha diffuso i dati dei conti economici territoriali relativi al 2014, la Calabria ha un PIL per abitante pari a 16,2 mila euro, contro i 37 mila della Val dell'Aosta e i 35 mila della Lombardia. Per quel che riguarda i redditi prodotti, le cose non vanno meglio. La regione è in coda con 28,8 mila euro di media per ciascun occupato dipendente, contro una media nazionale pari a 35,6 mila euro. Veniamo poi alla grande piaga, l'occupazione. La nostra regione registra un calo dello 0,2% rispetto all'anno precedente. Tra le regioni in flessione è quella che perde meno posti di lavoro, ma resta comunque in una situazione negativa. Un po' di luce si intravede, osservando la variazione del PIL regionale complessivo, che in Calabria ha registrato un più 0,2% rispetto al 2013. Quanto sia drammatica la condizione in alcuni territori, lo spiegano alcune delle vertenze in atto. Emblematica quella che vede protagonisti loro, malgrado i dipendenti delle province di Crotone e Vibo Valencia, che ormai disperati avanzano dai tre ai cinque mesi di stipendio. Niente soldi, impossibilitati ad assolvere le proprie mansioni dipendenti da tre mesi ormai privati del loro stipendio. Tanto vale chiudere la provincia. Più che un gesto simbolico, una protesta, quella del presidente dell'ente e sindaco di Crotone, Peppino Vallone. La chiusura del palazzo alla provincia pitagorica segue la manifestazione del personale, ormai al collasso. C'è però chi paradossalmente sta ancora peggio dei dipendenti provinciali. Si tratta del personale della società in house gestione servizi S.p.A., che per effetto della crisi finanziaria della provincia accusa fino a sei mesi di ritardo nel pagamento degli stipendi. Da Crotone a Vibo Valencia il passo ormai è breve. La pazienza dei dipendenti provinciali qui è finita da un pezzo e dopo l'invasione della filiale del Monte dei Paschi di Siena, ovvero il tesoriere chiamato a derogare le aspettanze maturate, si profilano nuove e più clamorose proteste. Da agosto in pratica i dipendenti provinciali di Vibo Valencia non percepiscono lo stipendio e ciò ha condotto, lamentano gli stessi lavoratori, le rispettive famiglie sull'astrico indebitato ormai fino al collo. Tutto questo nel disinteresse e nell'inerzia della politica, mentre la rabbia continua ad alimentarsi fino ad esplodere. Restiamo in tema di lavoro. Un'altra delicata avvertenza è quella che riguarda gli operai di Italo Cementi a Castrovillari. Un altro sito che abbatte il lavoro dopo la chiusura dello storico stabilimento di Vibo Marina. Da oggi sciopero a oltranza. Lo hanno deciso gli operai dell'Ital Cementi di Castrovillari nel corso dell'assemblea tenuta per discutere della proposta avanzata dalla proprietà del colosso industriale circa la trasformazione del sito industriale in un centro di macinazione. I lavoratori chiedono il riconoscimento, anche dal prossimo primo febbraio, della cassa integrazione senza che Italo Cementi proceda alla trasformazione dello stabilimento. Per i dipendenti del cementificio la proposta di Italo Cementi è inaccettabile. Con la trasformazione in centro di macinazione si passerebbe dalle attuali 80 maestranze a sole 25. La Calabria, dicono i lavoratori, non può e non deve perdere nessun posto di lavoro. Lotteremo con tutte le nostre forze e lanciamo un appello alle istituzioni, al governo regionale e alla deputazione calabrese di sostenere questa battaglia di civiltà e di lavoro. La riconversione dello stabilimento di Castrovillari si innesta in quello che, dal sindacato e dalla politica, è stato definito come il processo di fuga di Italo Cementi dalla Calabria. Un processo iniziato con la chiusura totale dello stabilimento di Vibomarina. Tra coloro che hanno perso il lavoro ci sono anche gli ex dipendenti della Fondazione Campanella, a cui faceva riferimento il polo oncologico di Catanzaro. Mentre il giudice civile di Catanzaro dispone che la regione saldi ben 80 milioni di euro alla stessa fondazione, gli ex dipendenti chiedono che a beneficio della Campanella sia annullata l'estinzione della personalità giuridica. Vediamo il servizio. Con una lettera indirizzata al prefetto, al presidente del Tribunale di Catanzaro, al presidente della regione e al rettore dell'università, Un utrito gruppo di ex dipendenti ha chiesto la revoca del decreto di estinzione della Fondazione Tommaso Campanella, cui faceva capo il polo oncologico catanzarese. Ciò scrivono per il venir meno dei presupposti che lo hanno determinato. La richiesta giunge dopo la sentenza che ha condannato la regione al pagamento di oltre 81 milioni di euro al centro oncologico. Una vicenda quindi tutt'altro che conclusa, visto che se non interverranno fatti concreti a breve scadenza, tutti i dipendenti licenziati hanno manifestato l'intenzione di attivare una vera e propria class action nei confronti dei due soci fondatori della Fondazione, ovvero Regione Calabria e Università, nonché di tutti quegli altri soggetti che direttamente o indirettamente hanno portato al licenziamento collettivo degli oltre 200 lavoratori. Intanto il Consiglio regionale, nell'ultima seduta, ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che prevede tra l'altro che il presidente e l'attuale giunta attivino un percorso anche normativo che consente ai lavoratori licenziati di essere riassunti e ricollocati in altri enti dei soci fondatori. Tuttavia, allo Stato, nessuna proposta concreta ad oggi risulta essere stata presentata. Passiamo adesso alla sanità. Ancora una bocciatura per il commissario ad acta, la sanità Massimo Scura. Questa volta nel Mirino c'è il suo progetto di accorpare Mater Domini al Pugliese Ciaccio, un disegno che per i dirigenti dei Ministeri dell'Economia e della Sanità che ha incontrato non si può accogliere. Ce ne parla in questo servizio Tiziana Bagnato. Irricevibile, così i dirigenti dei Ministeri dell'Economia e della Sanità dopo aver incontrato il commissario Massimo Scura hanno bollato il suo disegno di unire il Mater Domini e il Pugliese Ciaccio per creare un unico polo. Un'integrazione che aveva sollevato le ire di tanti, anche del sindacato medici, che aveva osservato come l'emergenza venisse frammentata tra i due istituti con il rischio di limitare le possibilità di intervento in pronto soccorso. L'accorpamento invece per l'ingegnere è di elevata portata innovativa e farebbe risparmiare decine di milioni di euro. Non la vedono allo stesso modo neppure però i due funzionari del governo che durante il faccia a faccia hanno bacchettato Scura invitandolo a rispettare le procedure in primis ad avere sugli atti la firma di tutti. Insomma, il commissario deve dialogare con la Regione, con cui ormai è calato il gelo, e avere il placet di Oliverio. Solo successivamente l'accorpamento potrà essere vagliato dal tavolo tecnico. Per quanto riguarda poi i conti, confermato il buco di 65 milioni di euro, coperto con l'edizione all'IRPA e FEIRAP che generano un gettito di circa 89 milioni di euro, Scura avrebbe chiesto di poter utilizzare quei soldi di extragettito, denaro che è stato ricordato al commissario e della Regione e non del Ministero. La pagina della cronaca sono due gli omicidi sui quali i carabinieri di Reggio hanno fatto luce grazie all'indagine che ieri ha portato all'esecuzione di quattro fermi di indiziato di delitto a carico di altrettanti esponenti del clan Piromalli di Gioia Tauro. Francesco Creazzo. Due omicidi a distanza di due mesi e la presantissima accusa che grava su quattro uomini arrestati ieri dai carabinieri di Gioia Tauro per ordine della procura di Reggio. Viaggio Guerrisi di 51 anni, Gennaro Paolillo di 31, Rocco Ivan Stilitano di 52 e il 37enne Francesco Cosoleto sono stati fermati in esecuzione di un decreto della DDA con le accuse a vario titolo di associazione mafiosa, concorso in omicidio e tentato omicidio pluriaggravato, porto e detenzione illegali di armi, estorsione e danneggiamento, reati tutti aggravati dalle metodologie mafiose. In particolare i fatti di sangue che vengono imputati ai quattro uomini vicini secondo gli inquirenti al clan Piromalli sono l'omicidio di Rocco Albanese e quello di Pietro Giacobbe, uccisi in due agguati, uno a Gioia Tauro e l'altro a Rosarno, nella primavera del 2005. Gli investigatori inoltre avrebbero documentato estorsioni e danneggiamenti commessi tramite incendi o colpi di arma da fuoco per intimidire esercenti e imprenditori. La Cosca tramite i quattro avrebbe realizzato accordi con altre organizzazioni criminali e ucciso chi si opponeva al controllo del territorio. I fermati sono stati condotti nel carcere di Palmi. E adesso in breve gli altri fatti di cronaca della giornata. Nove condanne e un'unica assoluzione per gli imputati nel processo d'appello per l'omicidio di Valentino Vona, ucciso il 21 aprile del 2012 a Petilia Policastro, nonché del tentato omicidio di Giuseppe Vona, 26enne, fratello della vittima, e vero obiettivo dei sicari. La Corte d'Assise d'Appello ha riformato la sentenza emessa in primo grado, condannando a 30 anni di reclusione le quattro persone che erano state invece assolte dal GUP di Catanzaro. L'unica assoluzione riguarda Tommaso Ierardi, che invece aveva avuto una condanna a tre anni e quattro mesi. L'agguato avvenne nella località amarrata di Petilia Policastro come risposta all'omicidio avvenuto un mese prima di Vincenzo Manfreda, ritenuto il capo della cosca locale. Un complesso edilizio abusivo, costruito in una zona ad alto rischio idrogeologico del comune di Melito Portosalvo, è stato sequestrato dagli uomini del Corpo Forestale dello Stato, otto le persone denunciate, tra cui, oltre al costruttore, funzionari e tecnici comunali. L'edificio si trova a ridosso della fiumara di Annà, in un'area a rischio di esondazione. L'indagine è scaturita dalle denunce presentate da alcuni acquirenti delle unità immobiliari che hanno segnalato gravi irregolarità amministrative scoperte nel corso della costruzione degli edifici, peraltro mai ultimati. Un commerciante di 51 anni è stato arrestato dalla polizia a Belvedere Marittimo, centro del Tirreno Cosentino, per i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, lesioni personali, minacce e porto abusivo di arma da taglio. L'arresto effettuato dagli agenti del commissariato di Paola si è reso necessario a seguito di una denuncia presentata dall'ex moglie dell'uomo che, dopo reiterate violenze ormai esausta, ha trovato il coraggio di recarsi al commissariato e denunciare il suo ex. L'uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Paola. Gli agenti del Corpo Forestale dello Stato hanno sequestrato due terreni per complessivi 20.000 metri quadrati. Si tratta di aree adiacenti allo stabilimento dell'ex legnochimica di Rende, ormai dismesso, sui quali erano stati riversati alcuni rifiuti frutto delle lavorazioni. La fabbrica era stata sequestrata mercoledì scorso su disposizione della Procura della Repubblica di Cosenza a causa dell'inquinamento del sito. Un territorio devastato dal maltempo, sempre più isolato nei collegamenti e nella mobilità, a rischio sotto molteplici punti di vista. Si tratta della Locride, i cui sindaci sono stati chiamati a Roma per prendere parte di un tavolo ministeriale, grazie al quale tracciare un percorso di rilancio. Tutti convocati. I sindaci dei comuni della Locride saranno ricevuti il prossimo 10 dicembre nella sede del Ministero dell'Interno dal Vice Ministro Filippo Bubbico, dove si svolgerà una riunione programmatica per la costituzione di un tavolo tecnico presso il quale confrontarsi in merito alle difficoltà del territorio e dare assistenza e sostegno alle amministrazioni locali. Su mandato del Ministro dell'Interno, il tavolo sarà presieduto dallo stesso Vice Ministro, dal Sottosegretario Giampiero Bocci, e sarà composto da tutti gli altri primi cittadini dei comuni dell'area. Il tavolo tecnico costituirà una piattaforma di discussione condivisa e di scambio di informazioni e si proporrà di approfondire tutte le criticità del territorio Locrideo coinvolgendo anche soggetti esterni, oltre ai profili più strettamente afferenti al sistema delle autonomie locali e dell'associazionismo comunale, i diritti di cittadinanza e le misure di razionalizzazione dei presidi delle forze dell'ordine e degli uffici giudiziari, esattamente come sarebbe dovuto avvenire con l'operazione promossa da Pierluigi Bersani in collaborazione con l'allora sindaco di Monasterace, Maria Carmela Lanzetta. Un segnale importante da parte del Governo e un'occasione da non perdere per gli amministratori locali. Tappa cadanzarese per Vandana Shiva, la nota ambientalista in prima linea contro la fame nel mondo, ad accoglierla la cittadella e il Presidente della Regione Mario Oliverio. E' un'amica della nostra terra perché la nostra terra su questa linea può esprimere molto sul piano appunto dell'offerta qualitativa ma anche della capacità di proiettare le sue produzioni sui mercati. Così il Governatore Mario Oliverio è inteso salutare la tappa cadanzarese di Vandana Shiva, Presidente dell'Associazione Navdani International. L'incontro con l'ambientalista in prima linea contro la fame nel mondo avvenuto alla cittadella ha avuto come tema la dieta mediterranea. Vandana Shiva ha spiegato in particolare come il germe del terrorismo attecchiscala dove è grave la carenza di cibo. In India già da tempo, aveva già messo in evidenza nell'intervista prima il fatto che già nel 1989, quando c'è stata una grande carestia e il fatto che c'era una grande carenza di acqua e di vari altri tipi di alimentazione, altro che non ha suscitato, ha sviluppato anche questo fenomeno quale è il terrorismo. La stessa ambientalista ha sottolineato come anche il focolaio di guerra siriano sia stato generato dalle problematiche connesse al cibo. Anche il conflitto in Siria che c'è stato nel 2009 è iniziato ad esserci un attacco di i primi attacchi di terrorismo. Al termine dell'incontro è stato sottoscritto un accordo di collaborazione scientifico-culturale tra Regione, Università e i Paesi sottoscrittori del dossier UNESCO per la dieta mediterranea. La Regione ha presentato la sua strategia intelligente per la Calabria utilizzando i fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020. Si punta a valorizzare settori di nicchia ma che potrebbero essere molto competitivi. L'incontro ieri a Catanzaro. La strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Calabria, Smart Specialization Strategy Calabria S3, è ormai realtà concreta ed è stata presentata ufficialmente a Catanzaro. Basata su fondi strutturali di investimento europei 2014-2020, il progetto mira a potenziare le eccellenze, valorizzare quelle che fino ad ora sono state nicchie di mercato ma da cui invece emergono chiari vantaggi in termini di competizione del nostro territorio. Durante l'incontro la Regione ha presentato i tavoli tematici dove gli attori locali dell'innovazione, vale a dire una pubblica amministrazione, le imprese, le associazioni di categoria, gli intermediari, il sistema della ricerca e le organizzazioni della società civile saranno chiamati a confrontarsi per affinare le aree di innovazione dell'S3 Calabria 2014-2020 e definire modalità di lavoro permanenti. I tavoli si svolgeranno dal 9 all'11 dicembre nei locali della Fondazione Terina alla Mezzia Terme. Strategia intelligente appunto per promuovere l'innovazione o quantomeno per far sì che l'innovazione non sia avulsa da tutto un contesto che deve essere multiprogrammatico ma sicuramente anche multisettoriale e deve essere un modo per ottimizzare tutte le risorse che vengono messe in campo sia nell'ambito del piano operativo regionale che nell'ambito del piano di sviluppo rurale. L'acronimo è POIC, significa progetti operativi per l'imprenditorialità comunale, rientra nei piani di progetto intrapresa promosso da Fincalabra. Uno sportello sarà attivo a Vibo Valencia, a tenerlo a battesimo in un incontro con il sindaco di Vibo Elio Costa, il presidente della finanziaria regionale Mannarino. Apri a Vibo Valencia lo sportello POIC, acronimo di Progetti Operativi per l'imprenditorialità comunale. A gestirlo sarà Fincalabra, la società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Calabria nell'ambito del progetto intrapresa. L'iniziativa è stata presentata nell'aula consigliare di Palazzo Luigi Razza, alla presenza del sindaco Elio Costa, del presidente di Fincalabra Luca Mannarino, di buona parte della giunta cittadina e di organizzazioni di categoria ed enti funzionali, tra i quali Confartigianato, CNA, Confcommercio, Cogal, Confesercenti, Coldiretti, Unindustria, Consorsi Turistici e Consorsi di Bonifica. In particolare, personale di Fincalabra, adeguatamente formato, avrà a disposizione un ufficio all'interno del comune di Vibo dove poter svolgere attività di consulenza e indirizzo, formazione e informazione a singole imprese o organizzazioni di categoria rispetto agli strumenti finanziari gestiti direttamente dall'ente in house della regione Calabria. Il POIC non è uno strumento di finanziamento, è lo strumento che serve per avere i finanziamenti, quindi è il master plan per organizzare quello che è l'offerta produttiva della città o del comprensore di Vibo. Sul piano strategico è stato il sindaco Elio Costa a sottolineare come finalmente anche a Vibo si tiene a battesimo uno strumento di sviluppo del territorio che mira, attraverso attività dedicate, ad essere da stimolo all'occupazione e all'economia locale. Stimola la ripresa dell'economia non soltanto con riferimento al territorio di Vibo Valencia ma con riferimento all'imprenditoria dell'intero territorio. Andiamo avanti. Nel 2016 le persone che non hanno le garanzie per avere credito dagli istituti bancari potranno contare sulle risorse del Fondo Centrale sulle operazioni di microcredito. Un'iniziativa illustrata dal Presidente nazionale dell'ente per il microcredito ed ex ministro Mario Baccini. Ma vediamo il servizio. Sono 100 milioni di euro destinati nel 2016 da parte del Fondo di Garanzia per le banche di credito cooperativo e gli istituti che erogano piccole somme a persone non bancabili. Un modo per sostenere l'avvio e lo sviluppo della microimprenditorialità favorendone l'accesso alle fonti e presentato a rende durante il workshop tecnico il microcredito e l'intervento del Fondo Centrale sulle operazioni di microcredito che ha visto la partecipazione di Mario Baccini, Presidente dell'ente nazionale. I beneficiari dei finanziamenti saranno le imprese già costituite o i professionisti titolari di partita IVA, in entrambi i casi da non più di 5 anni. L'obiettivo è quello di favorire le categorie sociali che diversamente ne rimarrebbero escluse e combattere la povertà e l'esclusione sociale attraverso progetti eticamente e tecnicamente condivisi. Il sistema bancario italiano, soprattutto il sistema legato al BCC con le quali stiamo sviluppando degli accordi molto importanti, qui in Calabria stiamo finalizzando accordi di questo tipo che tramite l'erogazione del sistema bancario e la garanzia che noi offriamo con il Fondo Nazionale appunto di garanzia fino all'80% di portare alla bancabilità tante persone che oggi non offrono e sono fuori dal sistema bancario, che non avendo garanzie non possono offrirle. Il consigliere regionale Giuseppe Mangiolavori ha presentato una proposta di legge per istituzionalizzare il Tropea Festival Leggere e Scrivere e durante la conferenza stampa convocata per illustrare l'iniziativa, la proposta del sindaco Elio Costa di aggiungere il nome di Vibo alla grande manifestazione culturale. Il Tropea Festival Leggere e Scrivere, l'evento culturale che per una settimana ha visto alternarsi a Vibo Valencia, personalità di spicco del mondo della cultura, dello spettacolo e della politica diventerà istituzionale, è l'idea del consigliere regionale Giuseppe Mangiolavori che ha presentato un'apposita proposta di legge. Com'è nata l'idea? Nasce dalla necessità dell'aver visto Vibo Valencia al pari di tutte le città europee. Mozione annunciata durante una conferenza stampa alla quale hanno preso parte i direttori artistici del Leggere e Scrivere, Gilberto Floriani e Maria Teresa Marzano. Io penso che sia una proposta intanto utile, utile al festival, utile alla città e utile a tutto il territorio provinciale. Siamo confortati proprio dal fatto che qualcuno capisce l'importanza di certe manifestazioni culturali in questo territorio. Alla conferenza che si è svolta al sistema bibliotecario vibonese il sindaco della città capoluogo Elio Costa che nell'accogliere positivamente l'idea del consigliere regionale di Forza Italia ha suggerito di aggiungere al Tropea Leggere e Scrivere il nome di Vibo Valencia. Io ho proposto, tenuto conto che l'epicentro della cultura per la verità è sempre stato Vibo Valencia, io ho proposto che la legge venisse modificata e fosse così intestata, Tropea Vibo Festival Leggere e Scrivere. E io penso che sarà accolta questa mia iniziativa perché senza il Palazzo Gagliardi francamente questo momento culturale qui a Vibo non potrebbe essere realizzato. Accoglierà la proposta del sindaco per cambiare la denominazione da Tropea Leggere e Scrivere a Tropea Vibo Leggere e Scrivere? Assolutamente non ci sono difficoltà. Passiamo adesso allo sport. Questa sera in campo per l'anticipo della giornata di Serie B il Crotone. I pitagorici affronteranno uno spezia molto ben attrezzato e che ha appena affidato la sua panchina ad un tecnico di grande spessore come Di Carlo. Mr. Iuric guarda gli avversari con grande rispetto e incontrando i giornalisti alla vigilia ha invitato i suoi a non commettere errori. Ecco Mr. Iuric. Loro come rosa, come idea, come tutto quanto, penso che dal mio punto di vista erano tra quelle 3-4-5 nettamente più forti rispetto all'altro. Poi hanno fatto anche, penso che sono stati anche molto sfortunati, però è un po' così, no? Anche contro Cagliari hanno fatto 30 minuti alla grande, poi il primo tiro hanno preso gol, girato anche bene. Sicuramente mi sembra che anche si è rotto un po' qualcosa perché ci sono state partite non da spezia, quando è così si vede là. Poi noi arriviamo in un momento peggiore, penso perché quando arriva l'allenatore nuovo, stimoli a mille, si azzera tutto, si riparte e come qualità di rosa è una rosa veramente di primo livello. Io spero che si prolunga il momento negativo, con fiducia nella squadra. So che sarà molto dura, che anche se noi facciamo partita migliore di fino adesso, possiamo tranquillamente perdere perché se loro fanno migliore la vincola. Però spero che... Comunque arriva un nuovo allenatore che è un grande allenatore per Serie B, che è un lusso assoluto, però non è facile neanche subentrare subito, dare tua idea di gioco, magari lui vuole una cosa, i giocatori sono abituati ad altra, vediamo di sfruttare anche questo aspetto. Ed è tutto, grazie per averci preferito. Prossimo appuntamento con l'informazione della C alle 16.30. Adesso come sempre un breve riepilogo dei principali servizi del nostro Tg. Buon proseguimento. La Calabria continua ad essere ultima nelle classifiche economiche nazionali, ma a dati Istat alla mano, finalmente una buona notizia c'è. Il prodotto interno lordo della nostra regione sta ricominciando a crescere. Di poco, ma è pur sempre un dato... Niente soldi, impossibilitati ad assolvere le proprie mansioni dipendenti da tre mesi ormai privati del loro stipendio. Tanto vale chiudere la provincia. Più che un gesto simbolico, una protesta, quella del presidente dell'ente e sindaco di Crotone, da oggi sciopero a oltranza. Lo hanno deciso gli operai dell'Italcementi di Castrovillari nel corso dell'assemblea tenuta per discutere della proposta avanzata dalla proprietà del colosso industriale circa la trasformazione del sito industriale in un centro di macinazione. I lavoratori chiedono... ...dicevibile. Così i dirigenti dei ministeri dell'economia e della sanità dopo aver incontrato il commissario Massimo Scura hanno bollato il suo disegno di unire il Mater Domini e il Pugliese Ciaccio per creare un unico polo. Due omicidi a distanza di due mesi e la presantissima accusa che grava su quattro uomini arrestati ieri dai carabinieri di Gioia Tauro per ordine della procura di Reggio. Viaggio guerrisi di 51 anni Gennaro... Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizia. Dal lunedì 26 ottobre l'edizione pomeriggio della C-News 24 va in onda alle 16 e 30. I calabresi sono informati.